le chitarre sono straordinarie ma quello che le tastiere quelle che un tempo noi chiamavamo la pianola dato la musica è qualcosa di straordinario forse probabilmente l'invenzione più bella per la musica moderna no riccardo beh concordo perché il pianoforte ha un ruolo particolare nella musica moderna da un tocco particolare anche a soprattutto a certi tipi di arrangiamento poi anche quella è uno strumento particolare che si è evoluto sempre nel tempo infatti qualche concerto viene suonato anche con le tastiere storiche infatti la bravura dei pianisti essere coscienti dell'evoluzione dello strumento e sapere adattare pezzi classici al pianoforte moderno infatti Bach suonato al pianoforte al clavicembalo cambia completamente tu hai scelto di fare musica quasi che fosse il tuo mestiere no papà forse aspettava qualche cosa di più tu invece hai scelto sta pazza musica no? io spero di avere no io tanto una soddisfazione io l'ho data perché sono laureato al triennio del conservatorio un pianoforte e si può accontentare adesso spero di dargli più soddisfazioni spero di crescere anch'io come strumentista anche come come compositore perché scrivo anche musica che mi piace molto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.